. Bergen 2017, le favorite, è il Belgio di Van Avermaet. Il Mondiale di Bergen sarà una corsa aperta a molte soluzioni e tutte sono incarnate nella squadra che sembra essere la più forte al Via, il Belgio. . La nazionale belga si presenta al Via con un capitano, Setteo Utziders ed un Gregario, sintomo sì della forza di questa selezione, ma anche delle difficoltà che potrebbero incontrare. Il capitano indiscusso sarà ovviamente Greg Van Avermaet, già campione olimpico lo scorso anno su un percorso più duro rispetto a quello norvegese. Il successo all'Olimpiade di Rio de Janeiro e quello alla Parigi Robbix hanno tolto dalle spalle di Va una scimmia non irrilevante ed ora il campione della BMC non è più il piazzato di prestigio come era considerato fino allo scorso anno. . 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 Soprattutto a Dylan Theums, apparso in formissima nelle ultime corse premondiale. I nove convocati dal Belgio, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Timu Elens, Oliver Naesen, Thiesy Benoit, Jens Keukeleire, Dylan Theums, Jasper Steuben, Julian Vermotte. Ciao!